Siamo in Londra con Massimo Nocerino, Pizzas Italian Academy, e Vlad, uno di gli studenti. Vlad, perché hai deciso di iniziare questo corso? Ho sempre amato la pizza. Ho 15 anni di esperienza come chef, e come sapete, i chef non si cuocano a casa, quindi mi piace andare fuori e mangiare pizza, ma ho deciso di iniziare a fare questo corso di pizza solo per migliorare le mie skilli di chef. Metto Massimo su YouTube, e qui sono, tre settembre dopo, facendo la pizza di scratch, facendo le due, e praticamente tutto è 100% home made. Il mio progetto è, per il prossimo futuro, fare qualcosa di simile, street food, pizza business, e combinare le mie esperienze come chef e pizza, e fare non qualcosa di diverso, ma qualcosa che mi piace, o quale, quindi vedremo come funziona. Sì, siamo in Londra, qui ora con Massimo, facendo pizza sul trailer di wood fire, e iniziamo le nostre pizza, e tutto ciò. Sì, sì. e ciò, e ciò, 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 stiamo tornato nell'unico attro potassium. In questo caso sono state tornate al mare urche. Non so, abbiamo lavorato diversi luonto, intorno a cambiare vita, caratterizzazione, visite solle privateери LISA Selezioniamo которой i parcolti. and we keep doing it right now as well so we're quite happy about that yeah and so let's keep doing that way pretty happy about it yes that's great massimo is specialized for all those who would like to become a pizza street food market so contact us if you would like to to become pizza chef and to to begin this kind of business in the streets of london or in england so for now that's all and yeah if you want any information contact the academy contact me um we can do street food training we can do all the pizza training all to run the business as a pizzeria and yeah just just contact us and we're going to help you thank you perfect thank you vlad thank you peace at london academy london bye bye